Mio papà è stato rapito! Spring Bonnie a casa mia! E non viene riconosciuto da mia madre! Ah, che cosa orribile! Nessuno lo sa, solo io so che è cambiato! Cavolo! Cavolo! Nessuno lo sa! No! Oh, è stato tutto un sogno! Se è così, sarà meglio cominciare la giornata! Iniziamo da una pat pat al gatto! Non puoi andare avanti senza fare pat pat a un gatto! Porda fortuna la tua giornata! Let's go, di popolo! Guarda qua, c'è la pancake e questa cos'è? Papà mi ha comprato questa lava lamp a un mercatino di quartiere! Piuttosto vintage, ma io la trovo stilosa! Bah, sembra la torre di Sauron! Poster dead metal, ok! Dei gusti particolari per un bambino! Ma fa colazione! Devo andare a far colazione con i miei genitori! Il primo giorno della prima media è arrivato! Eh? Il primo giorno di scuola! Stai ancora dormendo, giovanotto? Spero di no, ho fatto un sogno stranissimo! Su papà! Non preoccuparti, papà sta bene! Ti sta aspettando in sala da pranzo! Cosa? Mi sta aspettando in sala da pranzo? Ma sarà mio padre? Oppure sarà un coniglio di stanza da uomo? No! No! Forse per oggi salto la colazione! Ma tuo padre ci teneva tanto a mangiare con te stamattina! Iniziato peggio di un piccoli brividi dei peggiori! Ehm, facciamo un'altra volta! Ma non dimenticare il pranzo se non vuoi morire di fame oggi! Mi sa che morirò in altri modi, madre! Ciao papà, è stato bellissimo! Cacchio, mi sto seguendo con lo sguardo! Via! Ok, ok! Andiamocene! Bene! La cosa bella è che possiamo scappare di casa in questo gioco in via legale! Si vola a scuola! Giorno 2 scuola! Sono in classe! Vabbè c'è la Popper Fuster! È lei! È diventato kindergarten! Eeeh! Non riesco a smettere di pensare a quella cosa! Vorrei tanto poter scappare e basta! Dove? In Messico? Ah, chi riuscirebbe a pranzare in un momento come questo? Sicuro che sia una buona idea, Jet? Puoi andartene se vuoi fartela addosso! Che cosa sta succedendo lì? Una risa in... Ma sono dinamite! Ah, ok, no, sono dei petardi! Eeeh! Chi è stato? Scappa! Wow! Che hanno fatto, maestra? Sono dei scappestrat! Non sono stato io, però controlliamo! Chissà se quel ragazzo ne ha degli altri! Potrebbe tornarmi utile per salvarmi la vita! D'accordo, ragazzi! Cominciate a tornare in classe! Miss Popper Fuster, sempre la solita! Qua c'è il bullo del quartiere! Sa di carne fresca! Ehm, quello sarebbe il mio pranzo! Oh, lo zibetto si è scordato come si mangia! Era tipo l'unica cosa che non potevi sbagliare! Ah, ah! Bella questa, Dylan! Non ho capito niente, parlano un'altra lingua! La lingua della gen Z! La gen che dorme! Torniamo in classe, allora! L'ha detto la maestra! Restate seduti, ragazzi! Ricordate che se non suona la campanella, non siete! Ah! Liberi di andare! Si gode! Quindi posso andare? Abbiamo fatto bella lezione! Benvenuti! Una classe allegra! Non credo che esista l'Italia in questo universo! Trova il ragazzo dei Mortaretti! Ehm, forse è qua dentro? Vediamo la mappa! Ufficio del preside! Sarà andato dal preside! Sarà sicuramente dal preside, vero? Ehi, sei quello dei Mortaretti? Mortaretti? Mi chiamo Jet! Ma quello dei Mortaretti suona bene! Ne hai qualcuno a prestarmi? Prima di tutto, non si può prestare un Mortaretto! È una specie di Usai Jet, hai presente? Ok, allora potresti darmene uno? Hai un'idea di quanto costi uno di questi? Facciamo così! Di solito, dopo la scuola, vado in biblioteca! Portami qualcosa di introvabile e magari faremo uno scambio! Mannaggia! Niente che regala niente a nessuno! Sanno già come va il mondo, dopo tutto! Allora mi tocca tornare a casa, ragazzi! Che ne dici di leggere un libro su come non essere una sfigata? Andiamo ragazzi, non sprechiamo altro tempo con questa secchiona! Ma poverina! Guarda, gli scappo sulla pipì, papà! Ehi! Signorina delle sfighe? Non dargli ascolto, Dylan è soltanto un invidioso perché tu sai leggere! Grazie! I bolli mi prendono di mira per via della lettura anche alla mia vecchia scuola! Beh, in tal caso, devono essere proprio stupidi! Io leggo un sacco di fantascienza! Tu che stai leggendo? Mitologia greca! Mamma mia, è proprio una secchiona incredibile! Però, brava, cioè, fa bene! Ehm... Stavo pensando di iniziarla anch'io! Tento di far colpo! In verità non è molto diversa dalla fantascienza! Sono tutte storie di personaggi che non si perdono d'animo nelle situazioni peggiori! Hmm... Beh, caso mai volessi leggere qualcosa con i disegni, sarei felice di prestarti un fumetto! Oh, se ti piacciono i disegni, forse saprei cosa fartene di questo pezzo di antiquariato! Ieri stavo aiutando mio nonno a fare un po' d'ordine! Quando abbiamo trovato il suo vecchio album, ci sono dei disegni niente male! Wow! Ehi, 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 facciamo faville! Guarda! Mai mangiare nei pressi di Chica! Ma che cosa ha? Un fumetto di FNAF! Mai provare a suonare la chitarra di Bonnie! I circuiti attivano il protocollo di strangolamento! Ma che cacchio! Incollare il cappello della testa e i bambini continuano a rubarlo! I piani alti se ne fregano la sicurezza! Ma che cos'è? Tutta la storia di come funziona la pizzeria! Ah, Chica puzza il sederino! C'è qualcosa che non va dentro il suo torso! Dovremmo escogitare qualcosa! Ok, ottimo! È incredibile! Era una specie di tecnico, perciò sono solo appunti e scarabocchi di quando lavorava! Però non ha voluto parlarmene! Avrei dovuto buttarlo via! Ma non mi andava a disprecare carta, mi immagino! Ah, sì! Io mi chiamo Gabrielle, comunque! Io sono Oswald! Questo album è molto interessante, Gabrielle! Grazie! Ottimo! Forse posso portarlo all'altro tizio in cambio dei mortaretti, se non mi martorizzano! Allora, c'è la biblioteca, ma io devo tornare a casa al momento! Casa di Oswald! Ci sarà ancora il mio papà animatronico? Papà Bonnie? Come devo chiamarlo? Papà Castoro! Solo lui! Mi sculaccio in coro! Eccolo! Eccolo! Torno in camera! Alla faccia du cacchio! Ok, è ora di tornare da Jeff! Credo di avere un piano! Prima devo uscire da qui! Guarda qua, ho iniziato a disegnare sul muro le robe! Eh, voglio dire, secondo me, ho giocato troppi giochi horror e ora vivo dentro il loro mondo! Perché lo specchio è tornato qui? Se quella cosa si fermasse qui davanti, nel riflesso vedrai un coniglio oppure mio padre? Vedrai uno schifoso infame! Controlliamo, controlliamo un attimo in cantina! Se posso usare la mia bella scala! L'avranno tolta? C'è il mio gatto lì! Cacchio no! La scala è rotta! Devo trovare un'altra via d'uscita! Mi ha rotto la scala! Ma ha rotto la scala, povero a me! Ok, ok! Dai, 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 dai! La porta è aperta? Chiusa? No, è aperta! E allora? Vado nella vasca delle palline ora! Eccomi qua! Jeff! Hai qualcosa per me, Jefferellino? Ehi, ragazzo, stai lontano dai guai! Non mi dispiace se ti tartieni fino a tardi, ma non farti male e non appiccare incendi! I guai con la legge sono un casino! È una faticaccia! Lui ha problemi con la legge, è strano! Credimi, me ne intendo, sto sempre a fare una faticaccia! Strano! Vabbè, non mi infrega niente, tanto ormai, oltre a un animatronico pazzo sarebbe il killer in casa, cosa potrebbe andare storto? E questa ragazza che fa qui? Cliente furente! La mia pizza ci sta mettendo un'eternità! Giuro che più resto qui e più sento i ratti grattare i muri! Insomma, se ci fossero di ratti in cucina? È ancora peggio! E se il pizzaiolo fosse un ratto? Beh, sarebbe veramente buona, perché Mastro Splinter le faceva buone le pizze! Non dirmi di calmarmi! Lo sai che soffro di musofobia? Sembra distratta e paranoica! Le Karen! Le Karen! Vabbè, ci sono anche uomini, Karen, eh? Non voglio fare del sessismo! Andiamo nella vasca delle palline, comunque! Oh, sempre molto accogliente! Credo che dovrò disinfettarmi, ragazzi! Credo davvero che prendo strane malattie qui! Il Covid è partito da lì, mi sa! Bene! Siamo tornati nel passato, perché ogni volta che vado qui torno nel passato! La voce che ho sentito prima! Mi domando da dove provenisse! Dalla mue... Oh, perfetto! Le luci sono andate! Devo capire come rimetterle in funzione! So come rimetterle! Questa la so! Sono molto intelligente! Ho la torcia! Sì! Uuuum! Andiamo subito qui! E accendiamo qua! Vero? Bomba, ragazzi! Si è spostato! Tu stai fermo, ok? Non mi piaci, Freddy! Ok? Ok! Entra qui dentro, intanto! Dove sta andando? Sta andando a sinistra! Posso continuare a muovermi? Per fortuna... Ah! Ha fatto casino? No, non l'ha sentito! È crollata la tutta in faccia! Potrei distrarlo qui! Mentre qua! Vai a guardare la radio! Guarda la bella radio! Ok! Qua c'è Foxy, ma spero che sia... Guasta! Oh no! Oh no! Spero non mi abbia sentito! Ok! Ora, molto velocemente... Io ho un cacciavite! Ce l'avevo? Sì! Ecco fatto! Adesso dovrebbe aprirsi! Quindi posso nascondermi! Bello! Ah! Posso andare da un altro condotto! Oh! Posso andare in giro per la pizzeria così! E lui non può entrare nelle stanze chiuse, vero? E posso anche nascondermi dentro Freddy morto! Perfetto! Perfetto, perfetto, perfetto! No! No, 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 no! La porta è chiusa a chiave! Cacchio, sta venendo qui! È un problema! Però io vado per di qua! La porta è chiusa a chiave! Allora mi tocca entrare! Melma! No! È venuto a controllare! Ma cavolo! Dove altro posso andare? Solo qui? Oh! Da dove viene quel pianto? Ok, ho trovato una stanza! Ho trovato qualcuno, forse! Ma c'è pure un topo! Oh, oh! Oh! Chica! Chica! C'è Chica qui! Cacchio! Pure quella schifosa! Borsa del pranzo! Ho perso la borsa del mio pranzo! Se l'hai mangiato? Let's eat! Ce l'ha sul bavaglino! Se lo mangia! What? L'ho distratta in qualche modo! Quella cosa ha almeno uno stomaco! Che odore aveva il mio pranzo da così lontano! C'è sicuramente un bambino in cucina, ma non posso raggiungerlo finché non attiro quella cosa nel suo strano nido! Se vuole del cibo, forse posso prendere una fetta di pizza da Jeff! Ah, dovrei prendere della pizza dall'altro Jeff per attirarla! Quindi devo tornare da Jeff! Qui invece posso... Forse andare in altre zone! Aspetta, prima di andare... Controlliamo cos'altro c'è qui! La porta è chiusa a chiave! Dove siamo adesso? Siamo nella sala per le feste! E devo conciarla per le feste, ragazzi! Torniamo da Jeff! Ho visto abbastanza qui dentro! Devo farmi dare la pizza e corromperlo! Vai! Almeno di qua non c'è spring, sprong, sprango! Va bene, Jeff! Vecchio mio! Ehi, Jeff! Non è che ti avanza una fetta di pizza per me? Spiacente, ragazzo! Lo sai come vanno le cose ultimamente? Se vuoi qualcosa devi comprarla! Ok! Oppure posso trovare un altro modo! Cosa faccio adesso? Non sono in grado di comprare niente! Se solo potessi prendere in prestito una fetta alla cucina! Mmm, ho questa trappola che ho trovato per caso! Scommetto che una caccia al ratto schioderebbe senz'altro Jeff dal suo bancone! Quindi devo prendere un ratto! Non devo tornare ne... L'avevo visto il ratto ma era nell'altra pizzeria! E non so se in questa pizzeria ci sia il ratto! La ragazza parlava di ratto! Pannello di controllo! Ho trovato un pannello di controllo! Ok! Mmm... Sì, sì, è chiaramente la stessa pizzeria! Devo trovare la cucina! Proviamo a tornare nel passato! Vediamo se prendere un ratto mi aiuterà! Perché io ho una trappola, no? E ho visto che il ratto andava in giro! Posso andare? E il ratto è qui! Metto la trappola! Perfetto! Non saprei come dire, ma sono sicuro che un ratto mi tornerà utile! È fortuna che ho trovato questa trappola! Non credo che si farà vedere finché resto qui! Meglio allontanarmi così... Ok, l'ho messa lì! Perché lui va sempre in questo posto! Quindi mi infilo qui dentro! E dovrebbe... Ok! Credo che è meglio che mi nascondo! Perché sta arrivando un altro ratto! Un ratto molto più strafatto! Ma sta succedendo là dentro! Oh mamma! Grazie mille! Meno male che mi sono nascosto! Dai! Ma proprio qua devi camperartela! Senti che alito fetenchione! Ok, è andato! Rattito? Magari devo solo andarmene! Sì! Ho sentito la trappola! Ehi! No! È la peppa! Che ratto enorme! Di sicuro farai prendere un colpo a qualcuno! Daie! Perfetto! No! 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 Che be... Oh! Mi tocca mettermi qua! E stare in silenzio! Stare in silenzio! Che devo fa? Che devo fa? Dai che passa quei sui piedini! Su dici! F! La torcia in faccia gli ho messo! La torcia in faccia! Ora scappo nello sputtapalline! Scappo nello sputtapalline! Scappo nello sputtapalline! Ah! Sono inciampato mi elma! Ah! Ratta! Tattattattattattattattattattattattattattattatt Guild! Qua non può prendermi! Torno nella vecchia dimensione! Ia ia, ho! Hai già preso il mio padrone! Ia ia, ho! Bene! C'era un ratto! Ratto! Ratto fatto, matto! Vediamo se posso crearlo... Ah! So dove metterlo! So dove metterlo dalla signora che ha la paura dei ratti! Creerà un bel casino, lei! Eh eh! Ratto imprigionato! Questo dovrebbe bastare per distrarre Jeff. L'ho sprigionato. Ah, c'è un ratto, un ratto schifoso. Sei di nuovo a queste parti, ratto. Hai scelto il posto bagliato, amico. Vai, 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 che Jeff sta andando. Adesso la cuscina ha dovuto riversi le libere. Devo soltanto sgattaiolare dentro. Prendo una fetta di pizza e scapparmene. Let's go. È qui? Credo di sì. Sì, la pizza di Chica. Mi dispiace, Jeff. Troverò un modo di ripagarti. Più avanti. Ti darò una carta di Yu-Gi-Oh o Pokémon. Valgono tantissimo, valgono fare una fortuna. Se trovi il Charizard legendario. Qui invece, dove Stonk? Chi è andando? Attira l'uccello all'esterno. L'uccello intendono Chica? L'uccellaccia! La maledetta cornacchia dovrebbero chiamarla. La pecora nera dei pulcini. Andiamo a prenderla, signori. Dai che distraiamo Chica! Dai che troviamo un modo. Bene. Beh. Oh, no. Questo non è molto buono. Se faccio piano... Se faccio piano posso entrare qui? Ma vada... Sento qualcuno all'interno, ma la porta non si smuove. Aspetta, non era qua la cucina? Oh, Melma. Allora... Devo andare per di qua. Grazie. Bene. Eh... Oh, no. La corrente? Aspetta. Allora... Devo mettere una fetta di pizza? Devo tirarla. E come faccio? Come faccio? Forse devo metterla su... Qua. Qua devo metterla. Fetta di pizza. Non è proprio così che immaginavo di nutrire una gallina. Attirata. Ora aspettiamo che vada a prenderla. Mi nascondo qui dentro. E dovrebbe bastare. Cicca cacca. Cicca cacca. Cicca cacca. Eh. Eh. Cicca cacca. Cicca cacca. Eh. Eh. Mangia quel rifiuto di pizza con l'ananas. Solo tu, brutta ceffa, la puoi mangiare. Cicca cacca. Cicca cacca. Eh. Eh. Devo fare una canzone, ragazzi. La venderò su iTunes. Vi aspetto. O potreste farla voi. Ormai con l'intelligenza artificiale. Vi do questo compito per casa. Far la canzone in Cicca cacca. Soccorri il rag... No. Bro. Bro. Non adesso. Non adesso. Dov'era il ragazzo? Qua dentro? Vai all'entrata. Ho soccorso. Oz. Se ne è andato? Per adesso. Raggiungiamo l'uscita. Ho trovato un bambino ma non vedo niente. È tutto nero. È tutto nero. Devo rimettere una batteria, dai. Dov'è il ragazzo? Credo sia dietro di me. Ma l'entrata? L'entrata quella normale o l'entrata del futuro? No. Devo andare all'entrata vera. Ok. Corriamocela. Corriamocela. Allora. Corriamocela. Qualche modo mi sta seguendo, credo. Ehm. Eccolo qua, ragazzo. Tu non vieni? No. Sto cercando il mio papà. Indosso una camicia blu e capelli castani. Lo hai visto? No. Tu hai visto, Chip? Eravamo nella sala giochi. Quando è andata via la luce? No, non l'ho visto. Pensi che sia... Ah! Wow! Wow! Ma... Mia, mia. Non so se mi ha ucciso. Mi sono scappato. Mi sono scappato. Mi sono scappato. Io mi sa che non posso andare nella vita passata. Posso andare nella vita futura. Ma nella vita passata no. Oh no, 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 no. Ma l'adrenalina mi darà la forza del scappa. Tanto sono più veloce. Lui è tutto di metallo e il metallo pesa. Il metallo pesa e gli pesa anche il cubo di Minecraft. Accidenti! Ci è mancato poco! Perché non riesco a trovarlo? Dove ho dimenticato di cercare? Beh, qua non può raggiungermi, vero? Qua non può raggiungermi. Casa di Oswald giorno tre! Oh, 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 le! Giorno tre! Ho dormito poco e niente. Perché non riesco a... Vai alla ricerca di mamma. Cos'hai fatto, mamma? Oh, che vuole adesso? Tipo, non mi uccide, però mi tiene tipo in trappola. What is that? Ed è diventato un orso sul letto. Guardate. Tra l'altro in questo episodio mi sono dimenticato di mostrarvi. C'erano dei minigiochi molto inquietanti sulla storia di FNAF. con il purple guy e altre cose. Magari li rivedremo meglio in un prossimo episodio. Però erano alquanto inquietanti. Comunque, ragazzi! Da sapete una cosa? Per questo episodio credo di fermarmi qui. Nel prossimo andremo a scoprire... Cos'è successo a mia madre! Ho già seguito quella cosa una volta e non è andata a finire bene. Questa volta devo andarla a cercare. Vabbè, la troveremo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi! Fate una preghierina per mia mamma. Oh!